E darei ora la parola al professor Gianguido Balandi per introdurre e per delineare la figura del professor Manfredini che tra pochi minuti riceverà dalle mani del magnifico rettore il titolo di professore merito. Prego. Grazie. Magnifico rettore, autorità, colleghi, studenti. Quando gli allievi di Diego Manfredini mi hanno proposto l'onore di fungere da laudator in questa cerimonia di conferimento del titolo di emerito, mi è sovvenuta l'espressione latina, per verità un frammento dall'ars poetica di Orazio, con la quale in questi tempi di pretesi frenetici cambiamenti si bollano i passatisti, laudator temporis acti. Ed è così, già che si tratta proprio di lodare il passato delle meritando. Ma per fare questo possono bastare poche parole. Lo lodano gli editori e i curatori di Collane che hanno pubblicato le sue numerose, ben sei, monografie, dai titoli anche intriganti come «Chi caccia e chi è cacciato» o «Rimetti a noi i nostri debiti» e il suo manuale, il manuale di istituzioni di diritto romano, che si usa in questa università. Lo lodano i responsabili delle prestigiose riviste nazionali e internazionali che hanno pubblicato i suoi innumerevoli saggi. Lo lodano i tanti illustri studiosi che hanno accolto i suoi inviti a venire a Ferrara per discutere e illustrare ricerche e studi, a partecipare a convegni o ad iniziative dei dottorati di ricerca, nei quali Diego Manfredini è stato attivo. Lo lodano i colleghi che hanno appressato l'equilibrio e la saggezza nei delicati uffici di governo che nell'Ateneo gli sono stati affidati. Ma soprattutto, e credo siano le lodi alle quali egli di più tiene, lo lodano gli studenti dei corsi di studio di ogni livello, dalle matricole ai dottorandi, che in decenni di appassionato e dedicato insegnamento lo hanno riconosciuto come un maestro prezioso. Questo è dunque il Tempus Actum di Diego Manfredini, ma poi ho avuto come un moto di rifiuto a collegare all'audatio Temporis Acti alla figura di Diego. Con quella grande capacità, che è propria degli studiosi degni di questo nome, di creare collegamenti sapienti nel tempo oltre che nello spazio, Diego ha saputo aprirsi alla comparazione, raccogliendo frutti significativi nell'intessere la riflessione sul diritto romano, nella trama del diritto europeo in costruzione, gettando quindi uno sguardo nel futuro. E questo è particolarmente lodevole, proprio perché il suo oggetto di studio, il diritto romano, sembra confinarlo in un'antichità, anche luminosa e sollecitatrice di essenziali riflessioni e insegnamenti, ma per alcuni versi lontana dai problemi dell'oggi. E non si intenda con queste parole come un'adesione alle pretese di espungere o limitare, nel corso di giurisprudenza, gli insegnamenti cosiddetti culturali. Proprio il contrario, l'esempio dell'interesse di Diego Manfredini e dei risultati da lui conseguiti nello studio del diritto europeo mostrano come la circolazione tra passato e futuro possa essere il tratto caratterizzante di ricerca e docenza, se interpretate con sapienza. Ed egualmente rivolta al futuro è stata la sua passione per l'insegnamento. Cosa è, d'altro, la passione per l'insegnamento se non cura del futuro? Rendere partecipi le generazioni a venire del sapere di cui si è protempore depositari. Ed ecco un altro tratto di Diego Manfredini che ne disegna un meritum, termine che componendosi con E, da, forma quel emeritum che dai vocabolari ci parla del soldato che ha onorevolmente terminato il servizio. Un meritum, dicevo, che si coglie dalla sua opera e anche, direi, da molti tratti della sua persona. Della conoscenza scientifica non si è proprietari, ma, appunto, depositari per il tempo della propria attività. Da qui l'insegnamento agli studenti, come ho già ricordato, e la cura degli allievi, le cui brillanti carriere sono ancora una lode per il maestro. Un modo di intendere il proprio trascorrere nell'Accademia, peraltro, perfettamente coerente con l'understatement di tutta la sua figura, fino alla raffinata trasandatezza britannica del suo vestire e della perenne bicicletta. Il tempo, dunque, è comparsa una volta ancora nel mio dire. Il tempo passato del merito da onorare, il tempo futuro che è stata la dimensione della proiezione dello studio e dell'insegnamento e del civis Diego Manfredini, il tempo presente della disponibilità del sapere da incrementare e trasmettere. La cerimonia di oggi segna il passaggio ad uno status accademicamente prestigioso, ma non interrompe le altre dimensioni, e in particolare un presente ininterrotto in cui Diego troverà il modo di continuare a studiare e trasmettere. Terminato è, invece, ragionevolmente, il tempo presente di questa mia laudazio e nel ringraziare il magnifico Rettore, rendo la parola. Do lettura del decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Visto l'articolo 111 del test unico delle leggi sull'istruzione superiore, visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2013, vista la deliberazione del Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza del giorno 18 aprile 2013 dell'Università degli Studi di Ferrara, decreta al Professore Arrigo Manfredini, già ordinario del settore scientifico disciplinare IUS 18, diritto romano e diritti dell'antichità, presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Ferrara, è conferito il titolo di Professore Merito a tutti gli effetti di legge. Il Ministro. Il Professor Manfredini mi ha appena chiesto se anche io ho fatto l'esame con lui e gli ho risposto di sì al primo anno di giurisprudenza, poi mi sono laureato altrove. Bene, in chiusura di questa cerimonia io voglio ringraziare tutti gli intervenuti, ci avete davvero onorati con la vostra presenza e consentitemi di ringraziare pubblicamente l'Ufficio Comunicazione ed Eventi della nostra Università per l'ottima organizzazione che ogni anno riserva questa cerimonia. Grazie a tutti, buongiorno.